Ciao! Salve! Buongiorno! Buonasera! Buonanotte! Arrivederci! Come va? Bene, grazie! Come ti chiami? Mi chiamo... Da dove vieni? Vengo da... Quanti anni hai? Ho 23 anni! Sì! No! Per favore! Per piacere! Ecco qui! Grazie! Grazie mille! Prego! Attenzione! Mi dispiace! Mi scusi! Niente! Nessun problema! Non so! Non capisco! Parla inglese? Non parlo italiano! Grazie! 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 Grazie!